Ma che ore sono? Le sei e mezzo E noi siamo in piedi già dalle... Quattro! Ma siamo felici? Molto! Sono felici loro! Quattro! S'accesa! Dopo 45 minuti di check-in Grande! Abbiamo insegnato alla signorina come si fa il check-in Tra le 8.20 e tra un quarto d'ora in sera di marco Meno male! Che è? Come qui si gioca Quello delle patate? Che è quello delle patate? 13 ore di volo come sarà di compagnia Ma lo sappiamo, lo sappiamo sul traghetto Perciò che è stato un bel piano Perciò che è stato un bel piano Musica Perciò che è stato un bel piano Grazie a tutti 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 Grazie a tutti